Grazie a Netflix abbiamo potuto finalmente apprezzare le qualità delle serie tv spagnole. Dopo il grande e inaspettato successo della Casa di Carta, la piattaforma streaming ha deciso di investire di più sul mercato iberico e ha prodotto addirittura uno show originale, Le Ragazze del Centralino. Ma ha anche acquistato nuove serie come Elite, Alto Mare e nel 2019 ha distribuito le stagioni di Vis a Vis. Questa serie ha ottenuto ultimamente, finalmente, il successo che meritava anche qui in Italia ed è diventata molto celebre. Ma di cosa parla? Questo thriller, o se preferite commedia, è ambientato in un carcere di massima sicurezza, il Cruz del Sur, nel quale la giovane e ingenua Macarena Ferreiro, interpretata da Maggie Sivantos, viene richiusa dopo aver commesso alcuni reati fiscali per conto del suo capo di cui era innamorata. Entra quindi in un ambiente a lei ostile e in ben poco tempo si fa una nemica molto pericolosa, Zulema Zahir, interpretata dalla bravissima Naywan Imri. Lo show racconta le condizioni di vita di un gruppo di detenute, ma anche la trasformazione di una giovane ingenua in una criminale senza scrupoli, in una dura lotta per la sopravvivenza. Scopriamo insieme 10 curiosità riguardanti la serie. Exter, esposito di Elite, ha preso parte a due puntate durante l'ultima della seconda stagione e nella prima della terza, in cui ha interpretato la parte della figlia dell'uomo che era innamorato e voleva sposare Sole, una delle detenute. Ma non è finita qui, infatti anche Cayetana di Elite, interpretata da Georgina Moros, è la figlia di Zulema nella quarta stagione. Anche Belenquesta era già nota al pubblico spagnolo per la sua partecipazione a Vis a Vis, dove aveva lavorato proprio con lo showrunner della Casa de Papel Alex Pina, che è tra i creatori della saga carceraria al femminile. Il ruolo appunto di Belenquesta, che ha interpretato la sorella di Denver, figlia di Mosca, nella casa di carta, era quello di Yolanda, la ragazza di cui Macarena prende il postoletto in carcere e di cui scopre la sim contenente le indicazioni sul bottino milionario di una rapina per cui è finita in carcere. In pochi sanno probabilmente che all'inizio questa serie tv spagnola doveva avere un nome completamente diverso. Il creatore aveva scelto infatti di intitolarla Moschita Muerta, volendo così indicare la difficile condizione in cui si trovava Macarena in carcere. Ma i dirigenti di Antena 3, la rete che ha trasmesso le prime due stagioni, non è mai piaciuto questo titolo. Qualche giorno prima del rilascio della serie di Ivan Escobar, hanno cambiato il nome con uno molto più efficace ed impatto, Vis a Vis appunto, mentre hanno scelto di mantenere il nome Moschita Muerta, ovvero Zanzara Morta, nel primo episodio, intitolandolo appunto con questo titolo. Questa espressione francese vuol dire faccia a faccia, ovvero Vis a Vis il titolo appunto della serie, e è indicata nei carceri per indicare gli incontri settimanali che avvengono tra coloro che sono i detenuti e i loro parenti. Se in Italia la serie è mantenuto lo stesso titolo, in America invece è stato adattato in Locked Up, rinchiuso, che risuona forse meno brillante rispetto all'originale. La critica aveva accusato la serie di copiare Orange is the New Black. Quando nel lontano 2015 i critici avevano scoperto che il canale Antena 3 aveva deciso di trasmettere una serie ambientata in un carcere femminile, non sono stati molto felici e hanno storto il naso. Hanno infatti accusato il creatore Ivan Escobar di aver voluto realizzare una brutta copia della fortunata serie Netflix Orange is the New Black. E in effetti i due show sembravano avere molti punti in comune, a partire dai background delle due protagoniste. La storia di Macarena Ferreiro, che viene messa in carcere dopo aver commesso numerosi crimini per conto del suo capo di cui era innamorata, ricorda molto quella di Piper Chapman, la protagonista di Orange is the New Black interpretata da Taylor Schelling. Ma quando è andato in onda il pilot, gli scettici si sono dovuti rimangiare tutto e hanno dovuto ammettere quanto la serie spagnola seguisse una strada diversa da quella di Orange is the New Black. Nell'opera di Ivan Escobar, la storia di questo gruppo di detenute è molto più cupa e drammatica e il clima che si respira, e nella prigione di Cross del Sud, è molto più soffocante. Gli episodi di Visavvis hanno presto conquistato critica e spettatori e lo show si è conquistato a buon diritto, molte nomination e premi prestigiosi. Mai giudicare un libro dalla copertina. Nel 2018 i fan hanno dovuto dire addio alla protagonista Macarena Ferreiro dopo uno straordinario colpo di scena nel secondo episodio della terza stagione. La star della serie, interpretata da Maggie Syventus, è caduta infatti vittima di un attentato ed è stata trasportata in ospedale. Per tutta la stagione non si è più saputo nulla di lei, se non che fosse andata in coma dopo che era stata stritolata dalla lavatrice in quel terribile giorno. Per la gioia dei fan, che avevano chiesto a gran voce il ritorno della protagonista, Maggie è tornata a vestire i panni di Macarena Ferreiro alla fine della quarta stagione. Ma perché l'attrice aveva abbandonato la serie che l'aveva resta celebre? Facile. Maggie Syventus era al tempo troppo impegnata con le riprese della serie originale Netflix, le ragazze del centralino, e aveva chiesto di poter dire addio definitivamente alla sua maca. Sono stati gli autori a decidere di non uccidere il suo personaggio, dandole dunque la possibilità di ritornare. Lei stessa ha raccontato in un'intervista. Prima di leggere le sceneggiature, sapevo già che avrebbero lasciato una porta aperta, ma all'inizio, quando ho saputo che non potevo essere lì per tutta la stagione, ho pensato che la cosa migliore per il personaggio fosse chiudere. Non volevo lasciare nulla aperto. Poi, tuttavia, sono stata grafica che gli sceneggiatori e Ivan e Scobar abbiano preso la decisione di lasciarmi in coma, e lasciare dunque la porta aperta per Maka. Perché alla fine è stata aperta. Quindi, è stato fantastico. Una cosa molto simile, questa è un'altra curiosità, è successa appunto nella serie, nell'altra serie di Maggie Syventus, Le ragazze del centralino, dove nella quarta stagione il suo personaggio, appunto, muore alla fine della quarta stagione, e lei abbandona definitivamente la serie, e lo fa perché doveva registrare lo spin-off di Vis a Vis uscito in questi giorni. Questa è un'altra curiosità. Esiste un crossover di Vis a Vis e The Walking Dead. Un paio di anni fa, le due serie più viste e amate dagli spettatori che venivano trasmesse su Fox Spagna, erano Vis a Vis e appunto The Walking Dead. Per questo i dirigenti hanno avuto una grande idea per celebrare il giorno di Halloween, e hanno pensato di unire i due show in uno straordinario episodio crossover. In un corto diretto da Carles Torrance, che è andato in onda sui canali di Fox Spagna durante l'ultima settimana di ottobre, hanno fatto incontrare le detenute della serie tv spagnola con il mondo distopico di Robert Kirkman. Macarena Ferrero, Annabelle Roncavia e Zulema Zahir hanno combattuto unendo le loro forze contro uno spaventoso gruppo di zombie di The Walking Dead. Vis a Vis e La Casa di Carta non hanno in comune solo il cast. Chi ha visto entrambe le serie tv avrà notato che sono molte le attrici della Casa di Carta che hanno recitato anche in questo thriller ambientato in prigione. Prima di tutto c'è Alba Flores, diventata celebre per aver interpretato Nairobi nella serie tv sulla Banda di Ladri, che in Vis a Vis veste i panni di Sarai Vargas de Jesus. Allo stesso modo, Naewan Imri, la fantastica interprete di Zulema Zahir, è entrata nel cast della terza stagione della Casa di Carta per poter continuare a recitare con la sua cara amica Alba.